Nel video di oggi voglio andare a discutere il mio trade long sull'euro dollaro, trade che ho chiuso con un profitto e adesso sto cercando di capire se ci saranno i presupposti per un nuovo allungo su questo mercato. Ben ritrovato con questo appuntamento, io sono Damiano Zito, price action trader indipendente, membro e collaboratore di questa community, questa invece è professione trader, la rubrica dove ogni settimana e quindi il giovedì racconto il mio diario di trading e le operazioni che svolgo con un conto reale da 10.000 euro che ho aperto come fase esperienziale del percorso di accademia che ho intrapreso in Airforex. Allora io sono sempre davanti al grafico di euro, mercato che ho tradato long, insomma ultimo trade che ho fatto long su questo mercato e che adesso possiamo un attimino andare a, prima ad analizzare sul diario di trading e poi andare a vedere proprio sul grafico quello che ho fatto. Quindi parto proprio dal diario, questo è il diario di trading, ci sono le decisioni che ho presso sul trade, mercato che possiamo andare a vedere, ho tradato long a metà maggio su, adesso andiamo a vedere sul trigger FTV, un trade sul quale ho investito i miei classici 250 euro con una gestione attiva poi dello stop e che, diciamo, portano un ricavo di 100-153 euro al netto degli interessi che ho pagato in overnight su questa posizione. Allora, il trade quindi si è chiuso al momento in zona 1.087, 0.877 e possiamo quindi andare a vedere anche un po' sul grafico che cosa ho fatto, quindi su questo livello e in particolare ho preso delle decisioni su questo mercato inizialmente di, prima di una riduzione dello stop, quindi il 15 di maggio avevo fatto una gestione dello stop e poi in serato ho deciso di chiudere. Vediamo un po' che cosa, quindi che cosa ho fatto. Allora, per quanto riguarda quindi questo trade, io in realtà venivo da uno short su questo mercato, quindi riepilogo per chi non ha visto i video precedenti, nel caso invito ad andare a guardare, io avevo fatto uno stop sotto questi livelli, quindi dopo questo setup confermativo della gamba short che si era venuta a creare, quindi short su questo livello, che se vogliamo era stato confermato successivamente il 30 maggio. La giornata successiva in realtà, quindi 30 aprile, quindi nella giornata del primo di maggio, eccolo qui, quindi primo di maggio, mercoledì, il movimento di conferma è stato rimangiato e nella giornata del 2 di maggio c'è stata una inside bar con tail che effettivamente dava l'idea che ci potesse essere una continuazione al rialzo. Così è stato, c'è stata una candela di alta vola, quindi questa tail bar che per circa tre giorni, due o tre giorni, anzi tre giorni precisi, ha creato poi dei movimenti inside. E dopo questo movimento mi ero creato due scenari per valutare sul mio trade un'uscita a costo oppure una continuazione nella direzione del mio progetto di trade. Chiaramente non c'è stata la continuazione, quindi un ritorno al ribasso, quindi sotto questo minimo, un ritorno sotto questo minimo intendo dire che magari alla terza, la quarta giornata, la più quarta giornata, per esempio, faceva una cosa del genere, quindi questa si sarebbe rivelata una falsa rottura, quindi falsa rottura dei massimi precedenti, con l'aumento di vola al ribasso avrebbe sicuramente esancito una continuazione del trend short. Nel momento in cui il mercato invece ha fatto questa dinamica che quindi, rivediamo, questa è una outside bar, cioè una barra con massimo e minimo che ingloba praticamente tutte queste candele, quindi una, due, questa è una candela di domenica, non la conto, quindi uno, due, tre candele. Il 9 maggio, eccolo qui, si viene a creare questo rialzo, che crea in maniera molto sottile anche una falsa rottura di questo minimo. Questa outside bar ha un minimo a 1.07.245, questa candela ha un minimo a 1.07.240, quindi abbiamo una falsa rottura di, praticamente di fino, no? Cioè una falsa rottura veramente molto lieve dell'outside bar. Diventa in realtà anche questo, cioè questo è un setup FTV, strategia operativa del metodo Airforex, strategia proprietaria e quindi anche un trigger operativo per un long. Come già raccontato nello scorso video, il venerdì non ho fatto nessun ordine, sono entrato poi il lunedì mattina, quindi il 13 maggio, dopo che si è mosso un po' il mercato, quindi durante la sessione europea, al prezzo di 1.07.88, posizionando uno stop sotto questo minimo, quindi a 1.06.45, quindi impostando su questa ampiezza un investimento di 250 euro. Quindi ho utilizzato 250 euro di rischio con questa entry e sono entrato al mercato, quindi impostando questo livello di rischio su questa zona. Se andiamo a vedere un po' quello che poi ho fatto, nella giornata quindi del 15, quindi alle 11.30 del 13 maggio ho fatto questa entrata, poi ho effettuato una modifica di questo stop il 15 maggio alle 13.45. Quindi ho ridotto lo stop posizionandolo da 1.06.45, l'ho spostato a 1.07 sotto il minimo quindi della FTV che avevo tradato, lasciando uno spazio, quindi il 25% circa della vola di questa barra setup. Quindi il 15 maggio alle 13.45, probabilmente eccolo qui, avevo atteso dopo questa conferma a 6 ore se vogliamo, quindi il 15 maggio c'era stato, eccolo qui, la cannella della mattina aveva breccato al rialzo, questo doppio minimo higher close che è, eccolo qui, questa candela, il doppio minimo higher close, anche qui per chi non lo conosce, è un setup operativo descritto in tanti video, sempre qui all'interno del canale, comunque questa è una set barra al contrario, quindi anche qui massimo e minimo che inglobano, in questo caso, le candele precedenti, il 15 mattina il mercato brecca al rialzo, convalida questa tail bar doppio minimo higher close, e quindi decido di spostare lo stop. Sposto quindi lo stop, il mio rischio, lo riduco da 250 iniziali a 150 euro, quindi il mio rischio adesso diventa quest'area qui, area quindi che per me vale 150 euro di rischio. Questo mio rischio nella serata poi in realtà diventa nullo, nel senso che decido di incassare, e se riprendo ancora la decisione presa, stiamo parlando delle 19,45, il mercato crea oggi una candela di piena volatilità, sembra ci possa essere una continuazione al rialzo, però guardo anche le correlazioni, e vedo che la sterlina si trovava a 1,27, livello tonno, comunque livello di target di breve, Australia, anche qui livello tondo, decido di incassare anche per questioni amministrative. Quindi target grafico e amministrativo, chiudo, quindi il mio rischio diventa nullo, nel senso che chiudo la posizione, ed ecco qui che incasso a 1,08,77. Quindi il trade che si conclude sul movimento di vola, e che fa presagire l'idea che ci possa essere effettivamente una continuazione al rialzo su questo mercato. Questo perché? Perché se vado a prendere un po' il settimanale, eccolo qui, il mercato che cosa ha fatto? Ha recuperato in maniera piena questa candela, che in realtà è stato quindi un ulteriore setup l'8 aprile, quindi questo trigger operativo sul settimanale, che inizialmente dava l'idea che la zona di 1,07,20, diciamo questi minimi di questa lateralità, la rottura al ribasso e chiusura con questo setup sembrava potesse dare la possibilità di andare verso non 1,05,50, 1,05 minimi decisamente importanti sull'euro-dollaro. Nel momento in cui il mercato adesso recupera in questo modo il doppio massimo lower close, quindi questa candela del ribassista dell'8 aprile, effettivamente dà l'idea che il mercato adesso possa dare uno spunto verso almeno 1,09,40, 1,09,50, qui abbiamo poi il livello tondo 1,10, forse un po' più in alto, però diciamo in linea per un trade di breve termine c'è prima secondo me questa zona da oltrevalicare, anche perché adesso siamo sempre in questa fase di euro-dollaro abbastanza in range, quindi lo dico ormai da tempo, non ci sono adesso grossi movimenti sul mercato delle valute, se fate le valute sicuramente lo avrete già notato e quindi è bene lavorare su questo tipo di movimenti. Adesso quindi per quanto riguarda il mio trade, io non sono al mercato, ho sicuramente fatto un trade anche, può sembrare uno stop and reverse quello che ho fatto, però una cosa che volevo far notare è che io ero entrato praticamente il 26 di maggio o meglio andiamo a vedere, dopo il setup del 26 di maggio io avevo fatto praticamente questo primo trade vediamo un po' short sull'euro il 30 di aprile, quindi dal 26 di aprile, non 26 di maggio, 26 di aprile, il 30, quindi quando c'è stata questa conferma, poi io sono uscito il 9 di maggio, quindi 9 di maggio, quando c'è stata effettivamente questa candela long, rialzista che praticamente stava cambiando il trend e la lettura praticamente del mercato, quindi ci trovavamo sopra il livello, il mercato che ormai stava da questo short, ormai stava creando delle basi, degli scalini di prezzo che effettivamente ormai stavano facendo presagire alla possibilità di questo rialzo, quindi non è stato uno stop e reverse classico di giornata o di qualche minuto, ma uno stop e reverse ragionato, che è abbastanza in linea con quello che è il nostro modo di lavorare, ragionare, quindi andare a capire che cosa sta dicendo il mercato, quindi metterci la testa, ragionare, capire se ha senso, vale ancora la pena avere quel rischio sul mercato oppure uscire, quindi spostare quel rischio su un'altra posizione o magari anche sullo stesso mercato, come è successo in questo caso dopo qualche giorno, quindi utilizzare quel rischio, quel margine poi per una nuova posizione, quindi senza rimanere attaccati a quello che era un setup grafico che ormai stava per fallire. È chiaro che questo necessita di comprensione e lettura da parte del mercato, però questa è la natura di questo lavoro, capire le dinamiche di prezzo, capire quando entrare, quando uscire, quando prendere profitto, anche se si commettono, come dire, errori, se vogliamo, comunque delle esperienze che possono portare poi delle lezioni, apprendimenti su quelle che sono possibili dinamiche di prezzo che magari ci hanno indotto a fare delle entry un pochettino più avventate o non proprio col timing corretto. Bene, questo era il racconto del diario di oggi su questo canale. direi che al momento rimango ad osservare sempre l'euro, la sterlina e l'Australia per day long. Ti ricordo come al solito, vi ricordo che su questo canale potete vedere anche gli altri episodi di questa rubrica che hanno lo scopo di raccontare un po' l'esperienza di trading con il nostro metodo, un'esperienza sicuramente che non è priva di costi o di miglioramenti, insomma sono una persona che fa sicuramente trading come voi, che fa anche errori, quindi però li condivido e condividendoli mi sicuramente migliora anche il mio approccio e la mia esperienza sui mercati. Per quanto riguarda poi alcuni tecnicismi che magari utilizzo nei video che mi avete fatto notare, vi rimando sempre ai video che ci sono sul canale gratuito, c'è una playlist sulla price action con i vari trigger operativi, studio della struttura, c'è veramente tanto materiale, vi invito a guardarli e eventualmente scrivere nei commenti se qualcosa non vi è chiaro. Se il video vi è piaciuto vi invito sempre a lasciare un mi piace a questo video, eventualmente un commento per farmi sapere cosa avete capito, imparato anche oggi da questa nuova esperienza di trading. Io vi saluto, vi ringrazio e vi auguro un buon trading. Alla prossima, ciao!